Vai vai, si è appena complu... Cari amici di Tef Channel Non Solo Sport, oggi vi abbiamo portato a Roma, infatti sotto di me scorre il nostro amatissimo Tevere. Beh, comunque siamo qui per assistere alla presentazione del libro di Valerio Giuffret, l'antimetafisica, che si terrà presso il bar-caffè... Ah, non lo sapevo, se no mi sono a piedi.